Verrà discusa nei prossimi giorni una novità importante per quanto riguarda il nuovo piano regolatore di Roseto degli Abruzzi con una variante che si occuperà delle nuove aree bianche. Sì, sarà proposta al Consiglio Comunale una variante anticipatoria al piano regolatore che definirà la problematica delle aree bianche, ovvero quelle aree prive di destinazione urbanistica per vincoli apposti in passato e poi decaduti. È una notizia che anticiperà ovviamente l'estate qui a Roseto degli Abruzzi però ovviamente la provincia ancora deve giudicare il nuovo progettista per quanto riguarda il nuovo piano regolatore. Sì, chiaramente siamo ancora in attesa della conclusione del procedimento per la nomina del progettista al piano regolatore ci aspettiamo comunque tempi particolari per l'approvazione del nuovo piano regolatore e per questo abbiamo previsto di anticipare la questione delle aree bianche anche perché i proprietari di queste aree non possono più attendere di capire quale sarà il destino dei loro terreni e soprattutto bisogna anche salvaguardare tutto il territorio perché non si può neanche accogliere completamente tutte le richieste di questi proprietari perché ciò determinerebbe un po' un'eccessiva cementificazione del territorio quindi occorre subito risolvere il problema salvaguardia del territorio, salvaguardia dell'ambiente ma anche salvaguardia degli interessi legittimi di questi proprietari perché il comune non può dimenticarsi di loro. Aree bianche quindi che riguarderanno tutto il territorio rosetano? Certo, ci sono larghe fette di queste aree che erano state destinate a servizi essenziali per la popolazione quali parcheggi, zone verdi, piazze e quindi per questo è importante definire queste aree perché essendo state previste come strategiche per il territorio comunque vanno salvaguardate e va salvaguardata un po' la destinazione originale di queste aree ma al tempo stesso, ripeto, va tutelata anche l'aspettativa di ogni privato.